Buonasera, siamo qui all'Atronico per il Festival del Cinema di Genere. Siamo qui con il direttore di Lucania Film Commission, Pari delle Porace. Direttore, volevo chiederle, lei segue da sempre questo festival. Cosa le sembra quest'anno, giunto alla quarta edizione? Cosa potrebbe dire? Posso dire che c'è un forte punto di crescita di questi giovani che alimentano straordinariamente la loro passione, propongono un programma di altissima qualità con grande impegno, attirando operatori di settore di altissima qualità, dando una rassegna internazionale di cortometraggi e lungometraggi, chiamando grandissimi autori e proponendo i titoli del passato, e questo è molto significativo, e quindi noi non possiamo altro che ringraziarli di questa opera che significa educazione del pubblico, coesione nel proporre una cultura cinematografica di livello che passa attraverso i generi, che sono fondamentali per far sì che le giovani generazioni non smarriscano il contatto con la narrazione cinematografica tradizionalmente intesa. Noi siamo sempre stati vicini a questa manifestazione con dei finanziamenti, per carità, molto piccoli, ma credo che per loro significativi che devono crescere nel tempo. Infatti con il progetto Sensi Contemporanei Basilicata stiamo mappando tutte queste manifestazioni che sono sparse per la Basilicata in modo da poter avere una radiografia precisa di quella che è l'offerta di festival e rassegne e speriamo, con la volontà che sottolineo molto positiva della regione Basilicata e della presidenza di Marcello Pittella, di poter dare finanziamenti certi nel tempo per far sì che queste manifestazioni crescano e diventano anche dei grandi attrattori turistici perché gli appassionati di genere, soprattutto d'estate, amano andare in posti dove si parla del loro genere preferito. Quindi veramente un'iniziativa di altissimo livello, ben condotta e ben portata avanti. Che consiglio si sente di dare a questi ragazzi in vista di una quinta edizione? Io credo che con il nostro sostegno l'impegno deve essere che chi viene premiato deve presenziare al festival. Questo è un concetto molto significativo però c'è bisogno di investimenti perché per poter avere questo bisogna garantire l'ospitalità, a volte il viaggio, sono autori che stanno all'estero e questo potrebbe essere una grande crescita della manifestazione e anche pensare a delle masterclass dedicate da parte di autori di questo tipo di generi che potrebbero essere molto utili per la nostra rete creativa che in enorme crescita e ha bisogno di questi contatti a livello nazionale e a livello internazionale. Grazie mille. Siamo qui con il vingitore del lungometraggio Fantastiche Redi e un passeggiatore solitario Paolo Gaudio. Volevo chiederle come si è imbattuto in questa iniziativa del Festival dell'Orror Allatronico? Guarda in realtà è nato tutto attraverso la rete. Ho visto che uno dei giurati Luca Ruocco che è una persona che seguo online, lui ha una bellissima piattaforma in cui scrive di cinema e di cinema di genere, parlava della sua esperienza qui all'Atronico e quindi mi sono ripromesso di saperne un po' di più. Quando hanno pubblicato il bando online, appunto su una piattaforma che si chiama Film Freeway, ho iscritto il film ed eccoci qua. Nella presentazione della tua opera hai parlato di film anarchico, cosa intendevi? Nel senso che non è allineato con la produzione corrente del nostro cinema, forse nemmeno con il cinema inteso di genere che si fa in Italia. È un film che aderisce al genere fantastico, al fantasy in particolar modo, però ne tradisce quasi da subito le regole e la forma. È una sorta di dichiarazione d'amore fatta come una ricerca di un linguaggio personale all'interno di un codice, che è appunto quello di genere. Cosa pensi della location del comune di Latronico? Ti sembra adatto come location appunto? Assolutamente sì, mi sono trovato benissimo, i ragazzi dell'organizzazione sono ragazzi che hanno un grandissimo entusiasmo, che lo trasmettono, hanno un'ospitalità squisita e poi, come dire, ho sentito subito un'affinità elettiva, abbiamo forse lo stesso senso dell'umorismo, quindi è stato molto divertente. Grazie mille. Siamo qui con Luca Rocco, che fa parte della giuria di questo cinema dell'horror di genere alla Tronico. Allora, guarda, io faccio parte della giuria della Tronico Horror per il secondo anno consecutivo. Io di base sono parte dell'organizzazione di un altro festival di genere, che è il Fantafestival di Roma e sono entrato in contatto con lo staff di Ignorant Production, che lavora veramente bene. Loro, diciamo, ci inviano a un certo punto dell'anno alcuni cortometraggi e quest'anno per la prima volta una serie di lunghi, che sono il risultato di una prima scrematura che fanno loro stessi, che fanno anche parte, oltre che dell'organizzazione, anche della giuria. Da questi lunghi e da questi cortometraggi poi arriviamo insieme a Federico Frusciante, che è il presidente di giuria, e all'organizzazione, lo staff della Tronico Horror, a questi cinque premi, che quest'anno sono diventati sei, con l'introduzione del miglior lungometraggio della Tronico Horror. Siamo qui con il presidente di giuria, Federico Frusciante. Volevo chiederti come ti sono sembrati i corti e i lunghi presentati quest'anno al festival? Allora, io ormai vengo qui al festival da quattro anni. Il primo anno virtualmente mandai un videomessaggio perché per lavoro non ho avuto la possibilità di salire. Invece poi, negli ultimi tre anni, ho avuto la possibilità di vedere la crescita della qualità dei corti. E quest'anno era veramente altissima, da tutto il mondo. Siamo contenti, al di là dei corti, che nei lungometraggi, nonostante non ci fosse nessuna voglia alla base, siamo arrivati in realtà in finale, nonostante siano arrivati da tutto il mondo anche lì, tre film italiani. Quindi siamo contenti che i lungometraggi, i autoprodotti, sono arrivati in finale. Dei cortometraggi è stata veramente dura, un po' una battaglia. Io sono presidente di giuria, quindi dovrei avere il veto delle cose su queste cose, però non è il mio carattere. Insomma, però in realtà sono un presidente e si sceglie tutti uguali. Quindi è stata una lotta, nel senso che quando arrivi a tirare fuori dieci, dodici, e te ne arrivano veramente tanti, c'hai sempre quei due o tre che vorresti mettere, che poi per trovare tutti una soluzione comune non metti, ma che comunque, quello che dico sempre io, il punto è mandarli e farceli vedere perché poi le giurie cambiano, i gusti cambiano e magari il loro corto che qui non ha vinto può vincere in un altro festival dove in giuria non ci sono magari io. Perché purtroppo è per fortuna, per me in questi corti vale più il mio giudizio soggettivo, che poi è discutibile. Quindi mandate sempre corti anche se non vincete, questa è la cosa importante. Cioè il premio è semplicemente una cosa in più perché esiste un festival, esiste un premio. Però la cosa bella è vedere tutti i corti, anche quelli brutti, e dire anche a chi ha fatto un brutto lavoro, guarda, vai avanti perché puoi avere del talento, perché comunque non è che una cosa brutta per forza nasconde l'incapacità. Ecco, ci ha detto che partecipi a questo festival già da quattro anni. Quest'anno c'è stata qualche novità che ha riguardato magari la presentazione di lunghi e corti? Quest'anno secondo me è stata fatta un'edizione eccellente, cioè internazionale in un certo senso, perché al di là della, più che della novità, della qualità dei corti e dei lunghi che è migliorata. E' andata a salire anno dopo anno. Più che altro ieri sera qui c'è stato il concerto di Fabio Frizzi, la prima internazionale del concerto, della composizione sull'Aldilà, un film di Fulci, ed è la prima internazionale in cui ha suonato dal vivo sul film, dopo aver regalato anche un ulteriore spettacolo di più di mezz'ora del suo tributo che ha girato in tutta America. Quindi ieri sera qui in realtà si è trovato qualcosa che non si trova a volte nemmeno nei festival più grossi, come può essere Venezia o Roma, comunque ricordiamo che Frizzi, compositore conosciuto nel mondo come Donaggio, Morricone, è per gli amanti del genere. Quindi la Tronica ha offerto anche questo, che è stata una cosa emozionante anche solo per me presentarlo. Quindi è una manifestazione che è andata a salire enormemente, e qui l'Ignorant Production che la produce alla base, i fratelli Bruno, Paolo e tutte le ragazze, tutti quelli che stanno da fare fanno proprio un lavoro enorme, proprio perché anche il luogo non è il più facile da poter proporre, proprio perché immerso in un posto meraviglioso, a vedere se è un po' difficile da raggiungere, uno come me da Livorno, se dovrebbe venire da spettatore con le belle ferrovie dello Stato che ci sa, ci vuole un giorno e mezzo per fare andata e ritorno. Quindi andrebbe incentivato anche a livello proprio, come diceva anche, mi pare che ci fosse qui il capo della Film Commission, incentivato a livello monetario per avere dei pullman, per poterli fare magari la presentazione iniziale, fargliela fare in una città più grande per poi far spostare lo pubblico qui, che a quel punto una volta che fai una pubblicità a Matera e fai una proiezione della prima del film vincitore a Matera e poi il resto del festival lo fai qui, probabilmente ti porti più spettatori per qualcosa che lo meriterebbe, perché comunque ieri sera alla Piazza Era Gremita il concerto è stato fantastico e in prima internazionale, cosa che non capita da tutte le parti, insomma. Io ne giro tanti questi. Siamo qui con Danilo in Artedenni da Caserta, autore di questi splendidi disegni. Volevo chiederti come nasce la tua passione appunto per il disegno, per quest'arte. La mia passione per il disegno nasce da quando ero molto piccolo. Mio padre mi faceva i disegnini dei mostri che vedevo nei film, già vedevo i film sui mostri da piccolino, e tramite lui ho cominciato a disegnare anche io. E da allora, intorno ai 4-5 anni, non mi sono più fermato se non a 13 perché ho scoperto la chitarra e ho cominciato a suonarla. E poi ho ripreso qualche anno dopo a disegnare senza sosta. Sappiamo che le immagini sono molto importanti. Come possono contribuire per un genere come l'horror? Ah, io penso che almeno il mio stile, quello che faccio io, si avvicina tantissimo all'horror. L'arte come il cinema è qualcosa che va molto, molto, viaggia sullo stesso binario, insomma. Con l'horror rappresentare come hanno fatto anche tantissimi artisti come Enzo Sciotti che ha fatto la locandina del film, l'Aldilà, che è il film che è stato proiettato ieri con Fabio Frizzi a musicarla. è moltissimo importante perché c'era un oggetto che ora diventerà vintage sicuramente, che è la VHS. La VHS è stata molto importante per l'horror, soprattutto anche per le copertine. Le copertine erano disegnate da vari artisti che prendevano le scene salienti di quel film e le riproducevano in un'unica illustrazione. E queste sono cose davvero importanti, l'estetica soprattutto per l'horror. Quindi per me è davvero importante e va a braccetto tantissimo con il mondo dell'horror. Grazie mille.